lunedì 11 febbraio 2019 la settimana di san valentino cuoricini bacini a un wad subito 15 minuti e mom primo minuto 10 kettlebell one leg deadlift 5 per lato il secondo minuto 10 kettlebell floor press il terzo minuto 10 kettlebell bent over row ma non è finita perché poi avremo un wrap 10 minuti wall bolse a ogni minuto però faremo 10 kettlebell swing partendo dal primo minuto pesi scalature come al solito sulla grafica qui di fianco ci vediamo domani per un altro wad di san valentino ciao